Il 29 agosto 2017 è entrato in vigore il deposito prezzo dal notaio. Cerchiamo di capire insieme quali sono le novità che andranno ad impattare con la nostra attività di investitori immobiliari. I punti che ritengo avranno maggior impatto sull'attività che svolgiamo sono tre. Il primo è il deposito. L'acquirente potrà chiedere al notaio di tenere depositato su un conto corrente la cifra relativa al saldo prezzo. Il notaio non potrà rifiutarsi e dovrà tenere custodita questa cifra sino alla trascrizione della compravendita. Il secondo è la garanzia. Il lasso di tempo che passerà dal momento in cui il notaio ha fatto l'ispezione al momento in cui andrà a trascrivere l'atto, se dovessero arrivare ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti, domande giudiziali, insomma tutto quello che può avvenire in questo lasso di tempo, il notaio potrà far fronte a queste situazioni grazie all'importo che ha a deposito. In questo modo il venditore sarà maggiormente garantito che non dovrà sborsare cifre ulteriori rispetto a quelle che ha patuito nella compravendita. Il terzo sono gli interessi. Gli interessi maturati da questi conti correnti non rimarranno né al venditore né all'acquirente, ma verranno prelevati dallo Stato e verranno inseriti all'interno di un fondo per aiutare le piccole e medie imprese. Questa norma ha effetto retroattivo, quindi anche per tutti i preliminari sottoscritti prima del 29 agosto 2017 potrà essere applicata. Se ti stai chiedendo a livello pratico cosa cambierà per noi investitori immobiliari, la mia opinione è questa. Allora, quando andremo ad acquistare un immobile saremo avvantaggiati perché avremo un po' più di garanzia rispetto a prima, però dall'altra parte avremo una difficoltà nell'acquistare immobili da persone che devono necessariamente vendere per acquistare un altro immobile. Quindi potremmo risolvere questa problematica utilizzando soltanto notai molto veloci, quindi che ci permettono di trascrivere rapidamente l'atto. In questo caso andremo ad accorciare i tempi e a risolvere la situazione.